Questa dolce e timida cucciola l'abbiamo chiamata Pulcina. Pulcina ha sei mesi, mi è arrivata in canile che ne aveva due, con gli altri fratelli, arrivati non tutti insieme, a scaglioni, perché li segnalavano e man mano li portavano in canile. Per questo motivo Pulcina si trova in un altro box, appunto perché è arrivata in un altro momento. Lei è molto carina, un po' spinoncina, ha il musino col pelo un po' ruvido. Una taglia media non cresce tanto, è solo spaventata, guardate alla coda tra le zampe, perché la poverina non ha potuto socializzare all'età giusta, doveva essere adottata due mesi, ma non è stato possibile, perché la cucciolata è sempre stata male, nulla di grave i soliti problemi parassitari dei cuccioli, però ha dovuto fare anche tante flebo, infatti qui poverina ha ancora il segno perché se l'è strappata la flebo. Adesso Pulcina ha la possibilità di essere vista e scelta. Prima non si poteva mettere sui siti perché se i cuccioli non hanno i vaccini almeno uno, è inutile proporli in quanto non possono uscire, non possono lasciare il canile se non hanno tutto a posto. Lei ora sta benissimo, ha fatto il vaccino, scoppia di salute e anzi a breve verrà sterilizzata, perché appunto ha sei mesi, dobbiamo soltanto trovarle la famiglia giusta, una famiglia paziente. Dato che è timida consigliamo una famiglia che ha già cani, perché i cani timorosi poi si appoggiano tantissimo agli altri cani di casa, li vedono come punto di riferimento e apprendono da loro. Buona fortuna piccola Pulcina, vedrai che chiameranno anche per te perché sei bellissima. Ciao piccolina! Ciao! Ciao!